Dati, informazioni sono acquisiti da tutte le pubbliche amministrazioni, comuni, regioni, province e ministeri nell'ambito della propria attività istituzionale per fare un piano regolatore oppure nell'ambito di un concorso oppure per monitorare quali siano le prospettive di carriera dei laureati oppure degli studenti ed ex studenti. Queste informazioni che vengono utilizzate per finalità istituzionali e amministrative però possono essere riutilizzate in modo da generare ulteriore valore. Quindi il riutilizzo delle informazioni e del dato del documento è un concetto che si è affermato prima come bisogno perché è eticamente corretto, eticamente giusto, a prescindere dalla legislazione che dati, informazioni e documenti che sono stati prodotti con risorse pubbliche vengano in qualche modo, ovviamente sempre nel rispetto della privacy e quindi non divulgando dati e informazioni che devono rimanere riservati, dicevo è giusto, è etico che queste informazioni prodotte con soldi pubblici vengano restituite agli utenti sotto forma di pubblicazione sul web con delle modalità tecnologiche, quindi informati e con delle licenze che consentano appunto il riutilizzo libero anche per finalità commerciali. Questo è il concetto di riuso, concetto sostanziale che la normativa prima europea e poi italiana ha affermato a partire dall'inizio degli anni 2000, provo a fare l'avvocato, a dare qualche numero e nome per chi ha voglia di approfondire, è tutto iniziato con la direttiva 98 del 2003 e la direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, quindi un atto normativo con cui l'Unione Europea ha raccomandato agli Stati membri di incentivare, di stimolare il più possibile la messa a disposizione delle informazioni, sia come bene democratico ma anche come grandissimo strumento, come materia prima, si parla del dato come nuovo petrolio, cioè come materia per la produzione di beni e servizi della società dell'informazione, ma in realtà il termine petrolio non mi piace, non mi convince appieno, perché il petrolio ha le scorie, lo smaltimento è problematico e crea inquinamento e poi si esaurisce. Invece il dato, l'informazione, è una risorsa precompetitiva, non esauribile, che può essere, se pubblicata, riutilizzata da diversi altri soggetti e può produrre ulteriore valore aggiunto, valore democratico se la utilizzo e sono un'associazione della società civile, valore democratico se un giornalista ci fa un'inchiesta e lo pubblica, ma anche valore economico perché si genera fatturato, si creano posti di lavoro, così è stato nel mondo, così è stato nell'Unione Europea, l'Italia dal punto di vista normativo ha recepito questa direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico con un decreto, il decreto legislativo 36 del 2006 e poi con un altro provvedimento molto importante che si chiama codice dell'amministrazione digitale ed è importante conoscere perché contiene l'elenco dei diritti di ciascun cittadino digitale, quindi di ciascuno di noi, ha affermato un principio dell'open by default. Quindi cosa vuol dire? Proviamo a tradurre questa espressione probabilmente pomposa che significa che laddove non sussista una motivazione che imponga una diversa modalità di pubblicazione, tutti i dati e i documenti pubblicati sul web dalle amministrazioni dovrebbero poter essere utilizzati da chiunque anche per finalità commerciali con l'unico obbligo di ottenere la citazione della fonte, ma perché la citazione della fonte pubblica dà autorevolezza? Il fatto che un dato provenga da una pubblica amministrazione è una garanzia di accuratezza o almeno dovrebbe esserlo, garanzia di accuratezza, garanzia di aggiornamento, garanzia di affidabilità. Invece le licenze aperte sono quelle licenze che consentono a tutti i potenziali riutilizzatori di poter non soltanto avere accesso al contenuto al dato, ma di poterne fare i riutilizzi anche per finalità commerciali con l'obbligo di citare la fonte oppure eventualmente solo con l'ulteriore obbligo di condividerlo con una licenza compatibile. Questo in gergo si chiama, la prima obbligazione si chiama attribuzione, cioè l'obbligo di indicare la fonte e l'obbligo di utilizzo di licenza compatibile si chiama condividi allo stesso modo o share like utilizzando la denominazione inglese. Quindi una licenza è una licenza compatibile con i dati aperti soltanto se sia una licenza attribuzione e al massimo attribuzione share like, quindi condividi allo stesso modo. Licenze che neghino la possibilità di effettuare opere derivate, licenze che neghino la possibilità di riutilizzare il dato anche per finalità commerciali sono incompatibili con il paradigma e con la logica dei dati aperti del principio dell'open by default che anzi ha affermato il criterio per cui la licenza appunto by default, quella preferenziale, è solo quella dell'indicazione della fonte. Quindi l'idea è che l'unica cosa che possiamo come amministrazioni richiedere ai nostri utenti che vogliano utilizzare i nostri dati sia che indicano da dove hanno preso il dato e nella citazione della fonte, anche qui ce l'hanno insegnato a scuola, dobbiamo essere bravi anche magari dire aggiornato a quale anno ho preso questo dato ma quale dato ho preso, il dato 2017, il dato 2018, il dato 2019 perché questo è un ulteriore elemento di disambiguazione nel momento in cui noi andiamo a leggere il risultato di quella ricerca, andiamo a leggere quella mappa, se si tratta di una visualizzazione sul mappa oppure andiamo a leggere e andiamo ad utilizzare l'applicazione che viene realizzata con quel tipo di dato. La trasparenza amministrativa nasce da lontano, un lontano geografico, un lontano cronologico. Per la precisione il diritto di richiedere tutti i documenti, perché allora non si parlava di dati detenuti da un'amministrazione, viene codificato per la prima volta con la Costituzione svedese del 1766, quindi a partire da quell'anno qualunque cittadino che bussi alla porta del borgomastro, il sindaco del posto, per avere la ricevuta per i lavori del rifacimento della casa comunale, aveva diritto di avere quel documento. In epoca contemporanea la prima legge che va nello stesso senso è il Freedom of Information Act, la sigla FOIA, significa questo, è un acronimo brutto come molti di quelli che utilizzano i giuristi e gli avvocati. Legge sulla libertà, sull'accesso all'informazione, la possiamo ribattezzare la legge sul diritto di sapere oppure la legge sul diritto di conoscere la verità, perché di fatto nel 1966 negli Stati Uniti viene approvata una norma che consente a tutti di conoscere i dati e i documenti detenuti negli archivi delle amministrazioni. In Italia questa norma arriva con qualche anno di ritardo, nel 2016 il decreto legislativo 97 introduce il diritto, si chiama in Italia, di accesso generalizzato. Articolo 5,2 di questo decreto fa sì che tutti, chiunque, quindi tutti noi, possiamo richiedere i dati e i documenti detenuti da una pubblica amministrazione e a meno che non ricorrano determinati casi di eccezioni, il rischio per le libertà, quindi dati personali, interessi economici e commerciali, di libertà e segretezza della corrispondenza, oppure pregiudizio alle relazioni internazionali, all'ordine alla sicurezza pubblica, a meno che sussistano queste eccezioni che devono essere però adeguatamente motivate, l'amministrazione è tenuta in 30 giorni a darci accesso a questi dati e questi documenti. Quindi questa norma sul diritto di accesso generalizzato si affianca all'altra gamba della trasparenza, pensate alla trasparenza amministrativa come un corpo che cammina su due gambe. Da un lato la trasparenza cosiddetta proattiva, cioè i dati e i documenti che sono pubblicati dalle amministrazioni, prima si pubblicavano in modo analogico agli albi o su bollettini cartacei, oggi sono doverosamente pubblicate sui siti istituzionali delle amministrazioni e la seconda gamba su cui cammina la trasparenza è la cosiddetta trasparenza reattiva e quindi l'accesso ai dati, quindi trasparenza come reazione ad un input che arriva dall'esterno, un cittadino, un'associazione, un giornalista, un'impresa che voglia avere un dato, un documento e voglia utilizzarlo per finalità di controllo generalizzato dell'amministrazione sull'utilizzo delle risorse pubbliche o sul perseguimento delle finalità. istituzionali, sempre nella consapevolezza per cui la trasparenza non è voyeurismo, la trasparenza è quella che abilita scelte, scelte democratiche, scegliere quale sarà il politico che voterò alle prossime elezioni o scelte di vita, scelte imprenditoriali, ma la trasparenza fine a se stessa probabilmente, se è fine a se stessa significa che manca qualcosa. Nel corso degli ultimi dieci anni, grazie anche all'evoluzione normativa, ci sono state diverse iniziative e sono ormai diverse centinaia di amministrazioni che pubblicano i propri dati aperti. Per avere la situazione sotto controllo, perché viaggiare tra i siti di centinaia o migliaia di amministrazioni sarebbe assolutamente complesso, il punto di partenza non può che essere il portale nazionale dei dati aperti, dati.gov.it, che è il primo riferimento che mi sento di dare, perché lì ci sono non soltanto degli strumenti di ricerca che consentano di verificare a testo libero per area tematica o per amministrazione di provenienze, quindi sono un primo portale di accesso ai dati della pubblica amministrazione, ma su quel sito sono altresì disponibili una serie di documenti, di notizie, di indicazioni assai rilevanti, c'è anche un account twitter collegato molto attivo che sicuramente per chi ha voglia di rimanere aggiornato è un'ottima fonte di contatto. Un altro sito che invece dia evidenza di quanto gli open data possano essere utilizzati nell'ambito di una più complessiva modalità di azione della pubblica amministrazione è open.gov.it. Open.gov.it è il sito del team open government costituito presso il dipartimento della funzione pubblica. Cos'è l'open government? L'open government è una modalità di governo che ponga al suo centro i tre pilastri della trasparenza, della partecipazione e della innovazione. Per promuovere questi tre principi nel 2011 a livello internazionale è stata fondata una partnership quindi un progetto multilaterale gestito da governi all'epoca erano otto e organizzazioni della società civile dei cinque continenti. Dal 2011 al 2019 quei governi da otto sono diventati 75 e le organizzazioni delle società civile diverse decine. Tra questi 75 paesi c'è anche l'Italia che ogni due anni definisce un proprio piano di azione quindi un documento strategico con degli impegni concreti da portare a termine e tra questi impegni ci sono anche delle iniziative importanti in materia di open data quindi di accesso ai dati pubblici e quindi anche in questo caso il suggerimento è di consultare il sito, monitorare quello che fanno le amministrazioni e perché no partecipare visto che ci sono molte consultazioni alcune delle quali riguardano anche i dati aperti quindi partecipare alle consultazioni dopo aver effettuato delle esperienze in materia di riuso di accesso alle informazioni del settore pubblico potrebbe sicuramente essere rilevante per chiedere alle amministrazioni come ulteriormente migliorare perché l'open government si dice una beta permanente un po come i servizi del web che utilizziamo quotidianamente non si non si arriva mai alla versione finale e questo accade anche per i diritti di cittadinanza in particolar modo quelli di cittadinanza digitale. Il punto di partenza di ogni lavoro di ogni progetto è sicuramente la fase di ricerca i siti istituzionali delle amministrazioni i portali come open.gov.it e dati.gov.it sono sicuramente un punto di partenza ci sono tanti dati e informazioni che possiamo usare e riutilizzare se si tratta di contenuti pubblici quei documenti dovrebbero essere coperti da una licenza aperta quindi dovrebbe essere sufficiente citare unicamente la fonte. Nel caso in cui il sito di una pubblica amministrazione avesse ancora tutti i diritti riservati non facciamo semplicemente i pirati ma proviamo a contattare quell'amministrazione facendogli notare che c'è un principio articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale quindi probabilmente quella richiesta di restrizione del contenuto deve essere rivista e deve essere adottata una licenza aperta. Nel caso invece in cui vogliate utilizzare dei contenuti che sono disponibili su siti web o comunque sono di titolarità di soggetti privati attenzione alle licenze e attenzione ad utilizzare ad esempio contenuti che siano rilasciati con licenze cosiddette creative commons perché di norma le licenze creative commons consentono il libero riutilizzo anche per finalità commerciali dei contenuti penso alle immagini alle fotografie penso alle musiche da utilizzare per i video che volete che volete condividere negli strumenti di ricerca ad esempio sui motori di ricerca esiste la possibilità degli strumenti avanzati di poter avere come esito della ricerca soltanto immagini ad esempio su cui sia possibile fare anche delle opere derivate o degli utilizzi commerciali magari ci saranno meno risultati nella ricerca le immagini saranno forse meno belle rispetto a quelle della ricerca complessiva ma sicuramente sono contenuti che potete utilizzare tranquillamente così come a quel punto una volta che avrete finito il vostro lavoro il vostro contenuto preoccupatevi di indicare chiaramente i termini della licenza con cui lo pubblicate e naturalmente ci si augura e si spera che il contenuto sia rilasciato anche in questo caso con una licenza aperta quello che è opportuno pretendere che altri ci citino non tanto che ci paghino probabilmente può essere difficile anche perché lo sapete nell'era dei social network la condivisione è reputazione se un nostro contenuto viene condiviso significa che abbiamo fatto qualcosa di utile di prezioso per qualcun altro tanto che addirittura spende il suo tempo per condividerlo e quindi di fatto la citazione è una forma di remunerazione reputazionale assolutamente molto forte inoltre un consiglio sempre utile in fase di lavoro è quello legato all'utilizzo delle nostre fonti gli esperti vale anche per i giornalisti che si cimentano in attività di data journalism per essere guidati su quali sono i dati per noi rilevanti o dove si trovano utilizziamo la fase di interviste e di contatto perché questo tipo di consiglio ci aiuterà a ridurre i tempi di lavoro ci aiuterà ad indirizzare delle richieste ben assestate di dati e documenti nella consapevolezza che le amministrazioni hanno 30 giorni per rispondere alla richiesta di dati e di documenti e che quindi non dobbiamo ridurci troppo sotto la scadenza o troppo sotto la data di pubblicazione e quindi ha senso avviare il prima possibile le richieste in modo tale da dare all'amministrazione il tempo di fare le ricerche eventualmente di richiederci delle integrazioni se non siamo stati sufficientemente chiari a quel punto saranno passati i termini di legge quindi potremmo ragionevolmente contare su una risposta positiva e sui dati da consultare da studiare e da utilizzare per il nostro lavoro